Truffe ai danni di ignari cittadini. Un ventenne nisseno, dopo aver acquistato un cellulare di ultima generazione al prezzo di circa 350 euro, ha invece ricevuto un pacco con all'interno un mattone. Il giovane, che ha denunciato il fatto, aveva acquistato il telefono in un noto sito online, credendo di usufruire di un forte sconto, visto che questo smartphone è venduto solitamente a 800 euro. E ancora un cinquantenne nisseno è stato derubato di 800 euro, prelevati dalla sua carta di credito, ad allertare l'uomo, un operatore del call center della banca, che aveva notato cinque prelievi di contanti sospetti da istituti di credito negli Stati Uniti. La carta di credito è stata immediatamente bloccata per evitare ulteriori prelievi e l'uomo ha presentato denuncia.